Numeri positivi per il circuito Abrex nel 2017 ma tanta voglia di crescere, investire anche nel nuovo anno d'Ottavio. Sì, il 2017 lo abbiamo chiuso con più di 500 aziende iscritte e con 5 milioni di euro di economia che si è mossa all'interno di questo circuito di imprese abruzzesi. Il 2018 lo iniziamo con questa base importante e con l'obiettivo di raggiungere le mille aziende in Abruzzo e quindi offrire a mille imprese abruzzesi la possibilità di accedere al credito senza costi, senza interessi e soprattutto senza le rigide regole europee che gli istituti di credito si sono dati. Noi non siamo una banca, siamo una rete di imprese abruzzesi che a fianco al credito tradizionale bancario utilizzano linee di credito e progetti di sviluppo senza costi, senza interessi e con la possibilità di vedere aumentare il proprio fatturato. L'obiettivo è le mille aziende e poi cos'altro per il 2018? Noi abbiamo iniziato nel 2017 a offrire questo strumento anche ai lavoratori dipendenti, alle associazioni culturali, al terzo settore, al mondo del turismo e dello sport. Nel 2018 tra le mille aziende che vogliamo raggiungere puntiamo ancora di più a rafforzare la presenza a favore dei dipendenti. Ai dipendenti offriamo gli stessi strumenti che offriamo alle aziende utilizzando una possibilità di accesso al credito che in questa triangolazione tra azienda, dipendente e Abrex gli ha permesso di soddisfare un bisogno senza caricarsi di oneri, di interessi passivi e senza trovarsi un diniego magari da parte di un istituto di credito.